Ciao a tutti e bentrovati, io sono Emanuele Artibani, siete sul mio canale, di conseguenza benvenuti. Dopo la sigla tratteremo l'argomento delle razze antiche, non solo ma anche la storia legata al cane in qualità di miglior amico dell'uomo. Il cane inteso come miglior amico dell'uomo, però dopo la sigla. Se il tuo cane chiami Pelosetto, lui da grande ti darà un bel morsetto. Se gli metti il cappottino, lui ti mangia un ditino. Ricordi i riferimenti su Telegram Attenti al Cane, naturalmente la mia pagina pubblica di Facebook, nonché il profilo che sto cercando di migliorare sotto tanti aspetti, quello per quanto riguarda Instagram. E poi se ho dimenticato qualcosa, non lo so, mi verrà in mente mentre faccio il video, un video che cercherò di fare tutto abbastanza lungo, credo. Quindi mettetevi comodi, perché potrebbe essere, per chi non è abituato ai miei video lunghi, un video abbastanza lungo. Allora, molto spesso mi si fa questa domanda, ci parli delle razze antiche? Io tutte le volte che... Perché adesso c'è la moda, no? Di tirar fuori le razze antiche. E a me ogni volta che mi si fa questa domanda... Questo tanto è un pappagallo, non lo so chi è, un pappagallo. Tutte le volte che mi si fa questa domanda, resto un po' basito. Resto basito perché mi chiedo, cosa si intende per razza antica? Cioè uno cosa intende per razza antica? Perché il cane è così, così come noi lo conosciamo. Quando generalmente parliamo di cani, noi in realtà dovremmo parlare... Non ne faccio una questione accademica, ma forse intendere su ciò che intendiamo per antico e su ciò che intendiamo per razza e ciò che intendiamo per specie. Perché dico questo? Perché il cane è così, stimato da... In un periodo che va tra 40.000 e 30.000 anni fa. Mi spiego, almeno quello che conosciamo. L'uomo di Neandertal incontra l'homo sapiens sapiens tra i 40.000 anni fa e i 30.000 anni fa e l'homo sapiens sapiens non si sa per quale motivo sconfigge o chissà quale altro criterio fa sì che sparisca l'uomo di Neandertal. Ora che non voglio dire che il cane abbia portato sfiga all'uomo di Neandertal, ma viene da sé che la differenza sostanziale che c'era tra l'homo sapiens sapiens e l'uomo di Neandertal, guarda caso le due cose combaciano, è che nel momento in cui l'uomo comincia a... la nuova razza di uomini, quindi capace di essere sapienti di sapere, Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, quindi sapiente di sapere, nel momento in cui questo comincia ad elaborare delle tecniche di caccia o di sopravvivenza o di addomisticazioni vegetali o animali, nel momento in cui crea anche il suo sodalizio con il cane, guarda caso l'uomo di Neandertal sparisce. E questo non sono io a dirlo. È la storia, sono i ritrovamenti scientifici, sono le prove suffragate da fatti, ritrovamenti con i primi cani, le razze antiche, per l'appunto, che sono media taglia, non sono cani enormi. Con i primi corpi funebri che vengono trovati già una prima tomba con tanto che si ipotizza, ritrovo funebri intorno a un cane intorno ai 28.000 anni fa, il che mi fa pensare che forse quel cane era stato utile all'uomo sapiens sapiens al punto di regalargli una degna sepoltura. E questo è il primo aspetto. Ma già qui siamo al cane, alle razze antiche. Cioè che cosa intendiamo per razze antiche? Perché se per razze antiche intendiamo queste, forse c'è, non forse, oggettivamente c'è un errore che molti commettono, dal mio punto di vista in buona fede, o per superficialità o per scarso studio, perché non c'è voglia di approfondire, sul ruolo che oggettivamente e effettivamente il cane, così come lo conosciamo noi oggi, cioè la specie cane, no? Che forse riuscirò a mettere anche qui una fotografia di quello che è, quindi con il pelo, una bocca, il cane, il cane, si ha una considerazione strana, ma anche di ruoli che ha avuto il cane nel corso della nostra evoluzione. E adesso cercheremo di parlare. Il ruolo che ha avuto il cane nell'evoluzione dell'uomo. Io mi sono fermato a 30.000 anni fa, ma sarei potuto andare indietro, sarei potuto andare indietro perché ricordiamo che la parola cane e la parola cinofilia, la parola cane, sappiamo che viene, se non sbaglio, dal greco, se non sbaglio, dal latino. La parola cino, che è il prefisso che noi usiamo per cinofilia, viene dal greco e questa parola è importante per quale motivo? Perché ci dice che il cane veniva nominato già ai tempi dei Veda, del sanscrito, e non sto raccontando cose che non sono vere, cioè sono cose che probabilmente nessuno vi dice, ma se ve le andate a cercare, le trovate. Cioè noi sappiamo che già nei testi sacri, nei testi sacri, data appunto interrogativo, non sappiamo, esisteva il cane. Ma qual era il ruolo del cane? Ed è qui che molti si confondono e si fanno un'idea, dal mio punto di vista, prendetela in buona fede, un po' interiorizzata e un pochino anche perversa. Perché molti sanno, molti immaginano che il cane nasca come difensore assoluto dell'uomo, della sua proprietà, e quindi immagina questi canoni enormi che proteggevano l'uomo da chissà quale attacco. O magari i cani, di trattomi appunto una zanzara maledetta, i cani che magari invece erano abbardati per andare in guerra. Bello, questa è una parte molto affascinante della storia del cane. Ma è una piccola, parziale, storia del cane. Poi c'è la storia vera del cane e voi sapete che molto spesso i detti nascono e se c'è un motivo per il quale nascono il motivo è oggettivo, è di natura pratica nei detti popolari. Uno di questi è il cane è il miglior amico dell'uomo? Punto interrogativo. La risposta è sì. E la risposta però non la si trova all'interno delle nostre case. con il nostro amico Pelosetto, come molti chiamano. Non lo si trova nel parco giochi o non la si trova in un articolo di giornale dove si vuole per forza di cose descrivere un cane per un qualcosa di diverso da quello che è. C'è un episodio, c'è un episodio molto importante, ma ce ne sono diversi, ce ne sono diversi, sull'impiego del cane in modo antesignano. cioè già prima che questo poi divenisse attraverso una selezione il cane da combattimento, il cane da cortile, il cane con la famosa scritta sul fronte del giardino, cave Canem sul cortile interno della casa. Prima, già prima che tutto questo accadesse, c'è un episodio storico che viene raccontato da Vespasiano, o meglio viene riportato da Vespasiano, che è stato un imperatore romano molto importante, che dà una rappresentazione di una cosa che molti non sanno e non conoscono, forse semplicemente dimenticano di conoscere. Roma oggi è piena di spazzatura e lo sappiamo, voi lo sapete, vedete i telegiornali, li vedete continuamente. Lo stesso problema, Roma aveva due problemi, l'antica Roma, il traffico per le vie molto strette, i carretti che non riuscivano a passare, ed è provato, potete leggervi un libro di Alberto Angela, ad esempio, dove racconta 24 ore a Roma e vi renderete conto, il puzzo, il puzzo della città, per quello che c'era all'interno della città, vale a dire, non c'erano i frigoriferi, non c'era corrente elettrica, quindi era normale che gli odori fossero abbastanza forti, lo stesso impasto che amavano mangiare i romani, soprattutto i pretoriani, non i soldati, i legionari, che contrariamente a quello che molti pensano non potevano entrare a Roma, dovevano stare fuori da Roma, ma il problema più grande di Roma, già all'epoca, erano le discariche, la spazzatura. Questo era il più grande problema di Roma ed è qui che subentra il detto il cane è il miglior amico dell'uomo. Certo, lo capisco, è poco romantico, abbiate pietà di me, del fatto che sia io a raccontarvelo, ma la storia, l'evoluzione, è questo che ricorda, è questo che ci racconta. Perché il cane è il miglior amico dell'uomo? Perché ci ha salvato, ci ha salvato dalle pandemie, ci ha salvato dalle epidemie. Cosa faceva il cane? Quale ruolo aveva? C'è questo episodio di Vespasiano che racconta, naturalmente il racconto è pilotato attraverso la storia, non sarà andata così per come ve la metto io. Perché le fonti, in questo caso, praticamente il ricordo vuole che Vespasiano era a pranzo, durante un pranzo, nel suo palazzo imperiale, e arriva un cane con la mano di un uomo in bocca. A quel punto lui si accorge che forse la situazione sanitaria a Roma era andata fuori controllo. E questo è un episodio vero, cioè non c'è nulla che non sia vero. Ovviamente non sarà andata così. Ora voi immaginate un cane randaggio, che prende e entra dentro un palazzo dell'uomo più importante del mondo conosciuto all'epoca con una mano in bocca. È chiaro che non è andato così. Questo è quello che a noi ci è arrivato nel corso del tempo. Quello che non sapremo mai è chi esisteva un lavoro intorno a questo, ma come oggi non sappiamo chi ha costruito un carcere. Chi vuole essere ricordato perché ha costruito un carcere tu lo devi andare a cercare perché nessuno, nessun costruttore vuole essere ricordato prima perché ho fatto quel carcere. No, è chiaro. Quello che però sappiamo è che esistevano delle vere e proprie mute di cani e cerco di riprodurre lo scenario storico che Roma era intorno a... Tu prima di arrivare a Roma vedevi fuochi altissimi e il fumo, e il fumo, che poi è anche la verosimile causa scatenante del famoso incendio di Roma che non è vero essere stato voluto da Nerone. Oggi lo sappiamo. Gli incendi a Roma erano frequenti tant'è che il primo corpo di polizia a Roma, l'equivalente del vigile urbano, nasce in realtà come pompiere perché gli incendi erano frequentissimi ed erano frequentissimi perché venivano accesi dei fuochi per bruciare quello che non veniva finito, affinché quello che non veniva mangiato definitivamente, quello che non era in più, per quale motivo veniva bruciato? Al fine del non mandarlo in putrefazione perché sappiamo, tutti sappiamo che la carica batterica su determinati alimenti che vanno in putrefazione, immaginate d'estate con il caldo con 40 gradi, alimenti che vanno in putrefazione, sarebbe stata veramente una totale epidemia di un qualunque tipo di malattia che poteva appigliarsi all'interno di quella cosa. All'interno di quella carogna, ricordate che una carogna in un fiume rende l'acqua velenosa, cioè una carogna di un fiume a monte rende l'acqua velenosa a valle. Quindi, perché il cane è storicamente il miglior amico dell'uomo? Perché come viene raccontato in sanscrito e lo potete trovare e c'erano delle vere e proprie mute di cane nel sanscrito, parliamo quindi anche prima della storia di Roma, e viene raccontato in diversi veda che il cane camminava per le strade e ripuliva le strade della città. A Roma questo non viene raccontato, ma noi lo sappiamo. Non serve un genio per arrivare a capire questo. Non serve un fenomeno per capire che verosimilmente nell'antica Roma c'erano delle mute di cani che si spostavano all'interno di queste buche dove venivano buttate delle cose per ridurle per l'appunto all'osso. Cioè il cane mangia tutto quello che trova e riduce all'osso e in quel momento avendo pulito l'osso la carica batterica avviene decisamente meno nei confronti di quell'alimento. Ecco il motivo del perché il cane è il miglior amico dell'uomo ed ecco perché io vado in confusione quando mi si chiede di parlare di razze antiche perché le razze antiche sono queste cioè il cane nasce come miglior amico dell'uomo non perché io abbia una vena romantica nel dire questo perché anche a me piace pensare poi appartengo alla categoria di persone che guarda solo film con gli spari con le esplosioni i combattimenti al mio via scatenate l'inferno parte il gladiatore con al seguito il pastore tedesco grigio che peraltro all'epoca non esisteva e quindi è un bel bloopers ma va bene va bene tutto anche a me piacerebbe avere questa immaginazione ma la vera storia del cane è un'altra cioè la storia del cane che piano piano sta uscendo fuori è che il cane noi abbiamo due considerazioni reali vere oggettive indiscutibili da fare su quello che è stato il cane la prima la prima che quando si palesa il cane vicino all'uomo all'uomo sapiens sapiens quindi me e te che mi guardi improvvisamente sparisce l'uomo di Neandertal ora se l'uomo se all'uomo è stato utile il cane se lo ha addestrato a morder dell'uomo o se gli ha portato sfiga non lo sappiamo quello che sappiamo è che dalle prime tracce umane così come le conosciamo storicamente ma anche per come le conosciamo mitologicamente perché potrei partire con il pippotto e parlarvi per ore e ore dei geroglifici dei cani rappresentati dell'antico cane dei faraone dei cani rappresentati nei giardini di Babilonia ma qui sarebbero altri video che durerebbero due o tre giorni di fila quello che invece noi abbiamo fisso dobbiamo avere fisso in testa che le razze antiche non sono quelle che oggi ci vogliono far credere essere lo stesso cane che andava a fare combattimenti non era altro che una selezione di un precursore di quelli che oggi odiano gli allevatori cioè un cane da combattimento un cane da pastore forte era un cane selezionato cioè quello quello che allevò e costruì quel cane se preso per osmosi oggi e trasportato qui sarebbe odiato perché gli direbbero eh ma i cani antichi erano più piccoli eh ma erano più grossi sì perché la vera utilità il vero motivo ed è il secondo fattore per il quale il cane è il miglior amico veramente dell'uomo è perché gli ha permesso gli ha permesso di sopravvivere attraverso la pulizia intorno a quelle che erano dell'epoca le loro discariche e questo lo trovate in indiano ehm in greco ehm su Vespasiano l'episodio di Vespasiano eh è molto è molto importante forse il più semplice da trovare per chi vive in occidente ma di episodi simili è pieno è la storia del cane che è questo quindi quando si parla di razze antiche mettiamoci d'accordo di che cosa stiamo parlando che cosa intendiamo peraltro il passaggio di Vespasiano è molto importante perché lui fece una cosa che insomma non lo rese proprio diciamo che sbagliò un po' il marketing dell'epoca Vespasiano perché noi oggi lo ricordiamo per le latrine le famose latrine che ancora oggi possiamo trovare quella sparsa per il mondo ma il criterio insomma questo lo conosciamo tant'è che dopo quell'episodio di Vespasiano lui provò con scarsissimi risultati a non solo a mettere più latrine che peraltro erano a pagamento no e questo piacque poco al popolo romano ma provò anche a creare delle fognature un po' diverse per quelle che più o meno potevano essere all'epoca ora questo video solamente per dire che cosa che intanto non lo so per fare un po' un punto no su certe cose che vengono dette e che secondo me bisognerebbe misurare quando si dice no perché quell'allevatore la morfologia la morfologia che noi vediamo in un basso rilievo molto importante babilonese se lo trovo lo linco altrimenti andatevelo a cercare è di un cane già selezionato c'è un basso rilievo babilonese visto quello è già un cane selezionato per andare a fare combattimenti la guerra ma quello già è un cane selezionato il problema è che la storia del cane parte da prima il cane è il miglior amico dell'uomo perché non manda il cibo in putrefazione perché lo libera da una serie importante di problemi sanitari che altrimenti l'uomo avrebbe avuto questo è stato il motivo per il quale è sparito l'uomo di Neandertal e non l'homo sapiens sapiens non posso essere a dirlo non lo so non ne ho idea neanche mi arrampico in questo tipo di argomenti però questi sono i fatti così è come sono andate le storie il cane non nasce per fare tutto il resto che ci viene in mente a noi lui questo per questo è il miglior amico dell'uomo per averci reso in qualche modo più liberi di vivere la nostra libertà tra l'uomo di Neandertal e l'uomo sapiens aumenta l'aspettativa di vita in modo esponenziale e questo è quello che ha fatto il cane tutte queste informazioni non sono mie non sono mie le potete cercare studiare trovare avrete gli stessi identici riscontri poi anche a me piace immaginare che il cane sia diventato così per tutta una serie diversa di altri motivi ma il cane da non solo da Vespasiano ma da molto prima dal cane dei faraoni il cane dei faraoni quello che oggi noi conosciamo come cane dei faraoni che troviamo identificato ed identificabile in un qualcosa che somiglia al cerneco dell'Etna che è forse uno dei cani più antichi che ancora esistono ma con le dovute accortezze il cane dei faraoni l'antico cane dei faraoni era già selezionato all'epoca e provare a ricondurre una memoria storica è impossibile è argomento impenetrabile per il semplice fatto che noi non lo sappiamo ci sono diversi studi c'è chi avanza l'ipotesi che ho detto prima vale a dire che con la vicinanza del cane all'uomo sono diminuite in modo drastico le malattie legate alla putrefazione cioè un conto a vivere dove a massi di carne andavano in putrefazione e potevano scaricare diventavano una vera e propria arma batteriologica perché immaginate la carica batterica è una cosa indefinita indefinibile c'è chi avanza queste ipotesi io no io mi limito a dire che l'episodio del cane che entra nelle stanze imperiali di Vespasiano con una mano in bocca a lui fa scaturire in mente l'idea che forse si è arrivati a un punto di non ritorno e che bisogna dare una sistemazione a quella che poi diventerà una città decisamente più igienica non tantissimo quantomeno ci ha provato però l'errore di marketing lo ha fatto tutto questo per dire cosa quando mi chiedete di parlare di razze antiche io vi prego di specificarmi ma lo dico in buona fede di cosa stiamo parlando stiamo parlando dell'idea che noi di quella di quel processo mentale che noi ci siamo fatti intorno al cane o stiamo parlando del cane antico antico cioè di quel cane cosa si intende perché la fase due della vita del cane quella in cui affianca l'uomo in ogni suo spostamento arriva dopo molto dopo per noi ma per il tempo per il pianeta terra questo pianeta che noi stiamo non gli stiamo facendo niente pianeta terra nel senso che quando si romperà le palle farà così e spariremo quindi quando mi dicono no perché salviamo il pianeta no salviamoci noi dal pianeta perché sarà il pianeta prima o poi a ribellare quindi o ci svegliamo e diamo una ricondizionata al nostro modo di vivere perché noi il pianeta non lo stiamo neanche scheggiando non stiamo facendo nulla stiamo facendo nell'ordine della vita del cane 30.000 anni così non sono niente non sono niente quindi cosa si intende quando si parla di razze antiche quello che ha salvato l'uomo storicamente nella sua evoluzione in tutto il mondo conosciuto e non perché il mondo conosciuto era l'antica Roma ma poi c'era l'India e anche lì in sanscrito voi troverete le stesse identiche cose che vi ho detto oggi chiudiamo con il cane è il miglior amico dell'uomo decisamente sì ma non perché lo leggiamo su una rivista o perché ci fa la guardia a casa perché nella la sua storia quello che ha fatto per l'uomo sapiens sapiens è quanto di più importante sia mai stato fatto per il genere umano niente nel creato del nostro pianeta ci ha dato una mano come ha fatto il cane in un pianeta la terra ostile per sua stessa natura ci sentiamo al prossimo video grazie a tutti ciao ciao